Oggi l'ultimo saluto a Franco Baioni, il giovane di 20 anni morto a casa di un incidente stradale a Bazzano a bordo della sua moto nei giorni scorsi. Per quel che riguarda la dinamica dell'incidente è venuto fuori un video registrato da un'attività commerciale della zona che avrebbe catturato le immagini dell'incidente. Incidente che è avvenuto al bivio di via delle industrie che porta al nucleo industriale di Bazzano. Secondo una prima ricostruzione auto e moto viaggiavano nella stessa direzione, il giovane era in fase di sorpasso. Le immagini del video in possesso della polizia municipale già trasmessi alla procura della Repubblica perché c'è ovviamente un'inchiesta serviranno a chiarire meglio i particolari di una vicenda di per sé dolorosa e inaccettabile. Il dottor Giuseppe Calvisi ieri ha effettuato intanto l'autopsia sul corpo del giovane Franco. La donna alla guida della Forfiesta, una 58enne, resta sotto shock per quanto accaduto, l'assiste illegale Guglielmo Santella. È indagata come da prassi per omicidio colposo ma le immagini delle telecamere saranno molto utili anche per chiarire la sua posizione in questa tragica vicenda. La comunità di Camarda dove la famiglia del giovane era stimata e conosciuta e lutto sono state annullate tutte le feste in paese. Era giovane Franco ma volenteroso e un grande lavoratore, così lo hanno pure ricordato i colleghi e proprietari della struttura ricettiva dove lavorava. Anche lì la sua morte ha lasciato sgomento e dolore.